10 5 4 3 2 1 vai accenno destro per A4 al rail D4 per accenno sinistro destro sinistro destro 50 attenzione D5 lunga 20 A4 per D4 200 all'albero A5 attenzione rallenta cambio strada sinistra scende 150 all'albero A5 100 A3 30 e subito tornante destro 70 D3 100 A3 50 A3 dosso destro tieni al palo A2 per D5 tieni 200 al palo accenno sinistro 200 200 alla casa D4 attenzione cambio strada tornate sinistro leva 300 accenno sinistro che spettacolo rally di driver attenzione A2 in 2 20 in 2 ancora occhio eh chiude in 1 occhio vai D6 dai ci passa ci passa ci passa D4 per A4 per D4 30 A2 accenno sinistro per accenno destro a D2 lunga all'albero A2 20 tornante sinistro D4 per attenzione dosso su D4 150 A3 per D3 lunga 100 in 3 ora vai 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 tieni aumenta 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 vieni così A2 vai 70 A3 100 al terrapieno D3 accenno sinistro per destro al palo A5 70 D5 al paletto chiude in 2 100 all'albero A3 2 tempi 2 tempi D4 per A3 in A4 50 D2 100 A2 per D2 per D2 in A2 D5 in A2 17 0 Hz a3 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 e a3 a3 a4 Grazie a tutti.